Sono in subbuio da qualche giorno alcuni studenti del liceo classico Carlo Pisacane di Sapri, dopo aver appreso dal sito ufficiale dell'istituto la nuova assegnazione dei docenti alle classi per l'anno scolastico 2013-2014, che, a detta degli alunni, stravolgerebbe il criterio della continuità didattica. I ragazzi, infatti, in una lettera indirizzata al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, al dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, al direttore scolastico generale di Napoli, ai sindacati della scuola e alla redazione di 105 TV, denunciano che la dirigente scolastica ha completamente modificato il consiglio di classe e chiedono di ripristinare il criterio della continuità didattica e di adottare le opportune iniziative istituzionali per verificare se il comportamento della preside sia stato punitivo nei confronti di alcuni insegnanti e degli studenti. Intanto, oggi, alla nostra redazione, è arrivato un comunicato dall'Istituto di Istruzione Superiore di Sapri firmato dalla dirigente scolastica Franca Principe, la quale scrive La presente nota smentisce quanto dichiarato dalla redazione del telegiornale dell'11 settembre e dall'emittente 105 TV circa i criteri di organizzazione dei consigli di classe nel liceo Pisacane. A tutela dell'immagine della scuola, improntata ai principi di trasparenza e partecipazione, dichiaro che i criteri deliberati circa l'assegnazione dei docenti alle classi sono stati, come nei precedenti anni, rispettati nell'esercizio del ruolo dirigenziale, ai sensi del Decreto Legislativo 165, nel rispetto pieno della norma, nella tutela super partes di tutte le componenti, con la finalità di armonizzare le esigenze di studenti, docenti e personale ATA con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 105 TV precisa che quanto riportato sulla vicenda rispetta il contenuto di una missiva inviata da alcuni alunni dell'iceo classico Carlo Pisacane di Sapri.